Cinque anni fa, più o meno di questi tempi, lei giocava complice la squalifica di Fazio nella gara d'andata a Barcellona, il ritorno con la Roma di Champions League dei quarti contro il Barcellona, una rimonta pazzesca, 4-1 al Camp Nou, 3-0 all'Olimpico e qualificazione in semifinale. È un auspicio importante? Che cosa ha detto magari ai suoi compagni per caricarli? È una storia diversa perché comunque, prima perché sono cinque anni fa, quindi è già il passato e adesso devo pensare ad aiutare Napoli, a pensare a passare il turno, anche se cinque anni fa tutti pensavano che era impossibile, siamo riusciti e adesso penso che è un po' più semplice, non è ribaltare un risultato con Barcellona, di Messi, Iniesta, tutto quanto, ma sì ribaltare una partita in casa con i nostri tifosi, con la squadra che abbiamo adesso. Come te lo aspetti domani il Napoli? Impetuoso o consapevole? Consapevole perché comunque stiamo dimostrando in tante partite cosa è Napoli. Se oggi abbiamo questo stacco di 22 punti, penso che dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità, di sapere perché siamo arrivati qui e fare il nostro meglio. Eccoci, allora il Maradona sarà certamente diverso, no? Perché questa pace che è stata fatta, che cosa vi aspettate, che cosa vi sentite dire ai tifosi? Facciamo un appello per spingere ovviamente ancora di più a questa impresa. Io penso che nel momento in cui siamo arrivati non serve un appello, serve comunque fare il tifoso che ti fa e spingere la squadra il massimo possibile e noi faremo il nostro meglio dentro campo. Se sentiamo che i tifosi si spingono, sicuramente è più semplice da giocare anche perché abbiamo visto contro la Juve che partita è stata perché abbiamo sentito dagli spalti la forza del pubblico. Ciao Juan, un ritorno dei quarti di Champions si prepara sul piano tecnico-tattico, però direi anche sul piano mentale, considerando che all'andata ci sono state più provocazioni da parte del Milan. Ti chiedo se magari ne avete parlato nello spogliatoio, vi siete detti qualcosa, ve l'ha detto Spalletti, qualcosa, siete pronti mentalmente anche magari a non cadere in provocazione? Poi l'ultima chicca, ricordo che il termine cazzimma risponde alle coordinate di Napoli e non di Milano. Eh giusto, io penso che in una partita così loro hanno giocato l'andata a fare quello che ha detto, tu vuoi fare un po' di polemiche e tutto quanto, ma noi abbiamo risposto in campo, abbiamo risposto giocando a calcio e risponderemo così anche domani. Ovviamente dobbiamo essere un po' anche un po' più svegli, un po' più furbi e anche ovviamente serve alla cazzimma, no? Quindi per passare il turno servirà a questo. Ciao Juan, con domani è la terza volta che affrontate il Milan in praticamente in due settimane, in diciotto giorni, ti volevo chiedere quali sono le difficoltà maggiori nell'affrontare la scuola di Pioli, l'attacco di Pioli? Eh loro in attacco sono forti perché ce l'ha un Giroud, Brian Diaz che sta vivendo un buon momento, dobbiamo stare attenti nella ripartenza loro e poi tenere paranoia, se abbiamo paranoia loro non possono fare niente, quindi dobbiamo giocare il nostro calcio e dare il nostro meglio. Ciao Juan, domani sarai chiamato a sostituire Kim, sempre il mister insomma ti schiererà titolare, vedremo domani, che è un calcio, un difensore che oltre alla forza però in fase difensiva appunto quest'anno ha la caratteristica di impostare spesso la manovra del Napoli, comunque di portare in avanti l'azione. Proverai anche a surrogare nel caso sarai chiamato in causa questo aspetto o manterrai quelle che sono insomma le tue caratteristiche? Eh Kim è un grande giocatore però non penso che io sia di meno anche perché gioco in Serie A da 12 anni, ho affrontato delle partite molto più complicate, più difficili di questa di domani ma sono pronto, sono consapevole anche delle mie caratteristiche e qualità e farò del mio meglio, se devo impostare, se devo, non so, devo fare di tutto per vincere la partita di domani. Ciao Juan, hai appena rinnovato il tuo contratto, ci racconti il legame che si è creato con la città, con questo club così forte e poi visto che ci lavori ogni giorno, per la prima volta domani in questa stagione il Milan sfida Rausimen, quanto cambia una partita con lui in campo, grazie. Eh io Napoli sto a casa, sembra Brasile, anche perché la gente è molto calorosa, molto sei presente, quindi sembra davvero di stare in Brasile, c'è un legame importantissimo con la città e spero di avere ancora per questi due anni di poter sfruttare il meglio. Penso che sia un problema per la difesa dei Mille perché Victo è in forma, Victo è il nostro capocolonieri e dimostra ogni partita che c'è quella fame, c'è quella grinta di fare sempre di più, quindi speriamo domani lui possa continuare quello che sta facendo e di portare avanti la squadra. Chi teme di più del Milan nella gara di andata e sulla ripartenza, che praticamente il Napoli è stato fregato, concedimi questo termine? Leão, penso che Leão è un giocatore molto completo, molto veloce, potente, uno che c'è dribbli, quindi penso in questo momento Leão può farci del male. Hai detto che a Napoli ti senti come a casa, vorrei sapere se ti senti più a casa a Napoli rispetto a altre città che hai vissuto come Milano e Roma e se hai preparato anche già qualche vignetta, visto che tu sei solito sui social, but one, pubblicare già qualche vignetta, se l'hai preparata insomma? Guarda, io ogni città ho una storia diversa, Milano comunque è stata la mia prima città in Europa, ho vissuto cinque anni, ho tanti amici, sono cresciuto lì, sono maturato lì, a Roma è nato mio figlio Eduardo, quindi ho dei legami particolari con le città e a Napoli sto vivendo un momento migliore calcisticamente, non c'è una città meglio dell'altra, per me sono tutte case per me, perché dovunque sono passato, dovunque ho avuto una storia, non è che poi sono stato cinque mesi, sono sempre stato cinque anni, cinque anni, adesso ho fatto due anni e più due, quindi ogni posto per me è sempre caso, non c'è differenza e poi per la vienta è una sorpresa, quindi sì, sì, è tutto a posto. Ciao An, nello scorso anno aprile fu un mese fatale per voi, quest'anno invece aprile può riscrivere la storia del calcio Napoli, ci state pensando a questo? Certo, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, anche perché si sente già nella città dopo 33, 32 anni poter portare l'allegria, ci mancano ancora delle righe da compiere libero, abbiamo ancora questo mese di aprile per fare la storia e penso che il gruppo è preparato per cambiare l'aprile dell'anno scorso con questo aprile di quest'anno. Grazie, grazie. Grazie.